buona mattina è certo mattina in conseguenza ci auguriamo sia buona bondi bondi bondic ciao belli ho modificato un po' l'inquadratura della canz sei un po' più di là no l'ho traslata un pochino in giù poi devo ancora non so se devo ancora girarlo un po' più da sta parte aspetta eh si vede meglio si perchè l'ho messa più a un'altezza giusta ti sei ispirato al last cam disastro non so chi è? last cam che cos'è? se uno fa qualunque cosa è simpile ispirato a qualcos'altro ma non credo esista non credo esista è stosta ragazzi cos'è last cam? no last cam penso al culo ma è direzionale alla testa last cam aspetta ieri ho visto su twitch no ma immaginavo fosse una cosa vostra vero ho visto una su twitch che aveva la ascam nel senso per vedere il culo si 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 però non avevo mai visto io una roba così aveva proprio no non mi stupisce però effettivamente proprio avere la cam nel culo aveva la cam stiamo facendo un piccolo controllo palle a moro adesso noi guardate tutti attentamente ragazzi se potete un attimo dare un occhio che è importante o punto no Valerio non c'è bisogno di soppesarle no ma così è tutto torto no ragazzo non c'è il punto esclamativo controllo palle facciamo come tu Ram questa non l'ho capita neanche io che seguo il calcio ma sei tutta storta adesso no maledizione perché l'hai ritoccata non dovevi no infatti dottor oracolo risultati controllo palle vediamo un po' quali sono i risultati controllo palle più dritto di così c'è una curva bello però eh on point adesso sto da un'altra parte ragazzi non ne usciremo più no no ma c'è un bra io cambierò no controllo palle di nuovo questo tremolante questo è da Tokyo ciao Francesco ciao a tutti scusate come si fa a rinnovare con il Prime non ci sto più riuscendo devi premere su abbonati scrollando tutto sotto dovresti avere leva al tuo abbonamento io non ce l'ho ancora però purtroppo questa cosa qui ricordate ancora la cosa vecchia però usa ancora il Prime hanno spostato il Prime poi se volete fare la conversione appunto esclamativo cambio ma quando è che mi aggiorneranno perché io c'ho ancora la cosa vecchia teoricamente dovrebbe essere aggiornata a tutti no io c'ho ancora usa Prime e poi faccio rinnovare grazie a 3 ecco se volete e potete potete permettere fare il cambio da Prime a sub tier 1 tier 2 tier 3 con la clip lì capite il motivo se no va bene siamo anche il Prime ed è nascosto lì quindi mi raccomando cercatelo bene prima o poi mi aggiorneranno anche a me comunque mi aggiorneranno aggiorneranno tutti non riesco a scrivere nel termoraculo cosa vuol dire? non ho proprio capito cosa è Tana Vodafone Italia passa a Fastweb God cosa c'è? è stata comprata proprio comprata cioè Vodafone è stata comprata Vodafone Italia passa a Swisscom gigante delle comunicazioni proprietari di Fastweb quindi praticamente sono un'unica cosa porca miseria non è comprata no però è questa un'azienda qua che detiene sia uno sia l'altro l'hanno comprata per 9 miliardi di euro madonna moro tutto a posto? fammi vedere è lo scrotolo allora al destro lo vedo un po' più giù eh non riuscirò mai più perché c'ho un braccio di merda che va tutto a step e quindi è impossibile mettere qualcosa del drippo dai che devo aprire le carte oggi c'è per aprire beh tanto non abbiamo oggi non abbiamo freddo non abbiamo freddo non abbiamo freddo prego prego possiamo fare anche due ore vabbè no non le apriamo no stai fermo che sigla tanto la sigla non credo tu risolverai il tempo della sigla che altro non so e ti whatsapp poi avrò bisogno di te per capire le rarità perché non ho capito nulla di come funzionano le rarità in sto set io invece ho deciso che un pacchettino di Laming Cards di Dragon Ball lo voglio prendere così per test no Daniel l'ho tolto perché queste carte non c'entrano con quel sito quindi per oggi non scusiamo con il capo non me ne frega niente dovevo avvisarti giustamente scusami Daniel oh tutto a posto Moro le palle come le vedi più solide più smosce più tutto a posto no non mi piace come mai non ti piace è uguale a prima no è più adesso è più bassa non è più bassa io la vedo più più bassa la sigla la sigla ragazzi vediamo tornare ma quanto l'hai distrutta questa sigla oh zio ehi prego eccoci eccoci e vabbè la sigla più brutta della storia comunque inizio a leggere allora mentre Moro fa il controllo palle o vuoi prima aspetta prima lasciamo Liezar fare le sue cose no facciamo dopo facciamo dopo le carte allora partiamo subito con una notizia fantastica ovvero a 103 anni l'abbiamo già letta in auto con il covid bravissimo no ha detto che adesso andrà in moto esatto quello e si è detto ha sistemato tutto ha detto va bene allora andrò in moto come se è una battuta spero perché se no si smonta la signora poi abbiamo non so perché si chiami lsd la s sta per sorcio va bene sorcio che ci mette una notizia fantastica ovvero new orleans i ratti che infestano la sede della polizia sono strafatti di marijuana come le formiche che erano piene di zucchero mi immagino sorcio che va in giro per l'internet cercare tutte le notizie con scritto ratto topo o il genere questa può essere interessante dai andiamo avanti con la nostra amica imezuzu nonché autrice delle nostre grafiche che state vedendo qua intorno a noi nonché sarda nonché forse pirla andiamo a vedere qua devo accettare i cookie scusate masters mill indian wells 2024 incredibile sullo stadium 1 alcarez alcaraz credo si dica zverev sospesa per un'invasione di api e si vede effettivamente la foto con le api ho sbagliato tutte le pronunce probabilmente comunque si c'è stata un'invasione di api che si vedono proprio anche dalle riprese erano talmente tante che si vedono proprio nelle inquadrature anche da lontano e poraggio c'era anche l'arbitro che era tutto tutto incasinato nella sedia che cercava di schivare poveracci speriamo stiano bene tutti però le api servono ragazzi per cui non ci lamentiamo troppo so che possono fare del dolore io sono stato punto da un'ape che poi mi è morta davanti però ho imparato a dire api sì sono bravo andiamo poi avanti con ciao mioncino come camioncino bravo ciao sempre meglio che ci mette una notizia del sesso mondiali del sesso la spagna ospita il primo grande fratello hard in gara anche tra italiani bella questa cringiata non vedo l'ora di non vederla ma andiamo avanti sempre con il nostro amico ciao il nostro amico cinese trasforma non lui però che sta facendo questa cosa che vi sto leggendo lui ha messo la notizia trasforma le ceneri del marito in un gioiello poi scopre che sono di un altro morto questo è un po' imbarazzante grazie Tizel 30 come i miei antiz comunque sia vabbè allora che avevo già sentito di gente che si anche in yakuza tra l'altro c'è un ciondolo fatto con delle ceneri però ecco magari prendiamo il morto giusto sarebbe il caso di prendere il morto il morto adatto all'occasione perché se no se è morta mia mamma voglio fare un ciondolo prendo le ceneri della tua di mamma non è il mamma moro tutto a posto col controllo palle aggiornaci vedere fino a 7 ore è impossibile ragazzi io maledico questo braccio di mamma sai cosa è che secondo me la libreria dovrebbe essere vicinissima alla cornice è certo solo che appena la giro poi e dopo è storta quindi devo ritoccare ma cago è un casino vabbè andiamo avanti mentre moro fa il controllo palle 3.0 leggiamo la prossima notizia che è questo cane che ha mangiato 133 monete e adesso sta bene allora questo è strano innanzitutto che stia bene sono contento ma è strano l'ho operato allora il fatto è che avendole dentro per un po' per un cagnolino ti spacca tutti gli organismi interni comunque tra l'altro è un cagnolino che è identico a un cagnolino di un mio amico e anche il cagnolino del mio amico si chiamava Charlie è incredibile l'incredibile storia di Charlie il cagnolino dell'amico di Mark no non ce n'è un cagnolino di 13 anni operato per un'ostruzione allo stomaco durante l'intervento i veterinari hanno trovato centinaia di monetine per un valore di 18 sterline e 20 centesi c'è la foto con tutte le monete sul tavolo dell'operatorio e sta bene cioè addirittura si vede proprio il dottore post operazione che tiene in mano un sacchetto con tutte le monete ed è una roba che se la tiri in mano comunque pesa chissà sto cane che si è messo a mangiare le monete beh il cane di mio zio era morto perché si è mangiato un sasso non era particolarmente intelligente sono contento che stia bene anche perché tra l'altro non è che dici tu eri un cane di primo pelo 13 anni vuol dire che un cane molto anziano o comunque anziano bene bene andiamo avanti tutto a posto Moro no io continuo facci sapere andiamo avanti sempre con il nostro amico ciao mette questa notizia dottore mi fa male qui si porta un macete di 33 centimetri alla vista non l'ho letto arrestato a bolzare no questo no noi avevamo letto quello che aveva nella pancia le cacate si era nel culo ed era il gel no questo qui col macete dal dottore me l'ho perso ieri no non ieri no magari gli altri giorni ieri non ricordo c'era proprio qua bambino luigino l'ha messa ieri alle 8 e 50 ma è esattamente la stessa notizia non è che ero andato a prendere tanto sempre ho preso la bambigio quindi è proprio la stessa intanto metto lo stopper house l'ho messa io l'ultima notizia perché in USA una veterinaria si è travestita da volpe rossa per allattare il cucciolo il cucciolo orfano cucciolo quindi c'è proprio la dottoressa vestita da volpe cosplay con la maschera pelosa è tutto che che allatta il piccolino è una scena molto cioè nel senso è una volpe che allatta una volpe ma con le mani quindi è strano però dai non so perché ha voluto fare questa cosa l'ho voluta mettere perché è una notizia veramente strana si è un piccolo furri pare che è inquietantissima la maschera di questa volpe moro come va il controllo palle niente non ce la facciamo oggi ragazzi è terribile ma vabbè lascia così per oggi no non lascio così un cazzo fa cagare così che stai tutto il giorno in piedi a farti guardare l'uccello guarda che palla ravanando ma notizie nel video ludico abbiamo la recensione di Outcast recensione di Outcast che adesso vi vado a narrare appena mi dà la possibilità multiplayer eccoci qua allora crollo scrollo 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 scrotto gli hanno dato sette gli hanno dato sette allora vi leggo prima i contro i pro che sono due a testa quindi anche poca roba a livello di informazioni nei contro hanno messo alcuni sistemi di gioco sono appena funzionali che è una roba che veramente mi sembra assurda questa cosa qui sette credo sia proprio la base per non essere denunciati dall'azienda che gli ha dato le chiavi e attività secondarie ripetitive quindi le attività secondarie non servono una sega perché sono ripetitive cioè non servono una sega sono noiose e quelle diciamo le funzioni del gioco sono appena funzionali nei pro abbiamo il jetpack si rivela essere uno strumento davvero eccezionale e girovagare per Adelpha credo si dica così Adelpha è un piacere vi leggo la breve recensione Outcast New Beginning è un gioco pieno di alti e bassi da una parte la libertà di movimento concessa dal jetpack e la velocità con cui si corre da una parte all'altra di Adelpha è emozionante in qualche modo rinfrescante lì dove molti open world anche in muretti vanno scalati con animazioni dedicati per farci perdere un po' di tempo aumentare la conta delle ore dall'altra l'inevitabile fardello della ripetitività di alcune attività proposte frena un po' l'esperienza appesantito oltretutto da sistemi funzionali funzionali ma per niente brillanti come quello di combattimento è una storia complessivamente blanda quindi fa tutto cioè se mi dici che il combattimento a volte è blando è banale le secondarie sono noiose la storia è complessivamente blanda direi che abbiamo fallito quasi su tutti i fronti la sostanza è che se vi piace un approccio alla Breath of the Wild ossia incentrato in centro sulla libertà si dice in centro anziché incentrato potrebbe piacervi davvero molto sono stati tutti i difetti elencati se invece siete tra quelli che preferiscono altri tipi di gameplay potersi ritrovarvi con un titolo a corto di ossigeno dopo poche ore eh ragazzi in realtà il 7 mi sembra che sia un 4 qui sono stati assolutamente gentili a dargli 7 vedendo i pro e i contro e la recensione direi che è proprio un gioco che ha fallito su tre quarti della linea non dico tutta ma perché hanno detto che il jetpack è divertente da usare però per il resto mi sembra un gioco che ha fallito non che avessi io personalmente non lo aspettavo però poteva essere qualcosina di carino sì sì no ovviamente Gepard quando dico gentili chiaramente lo dico in senso un po' ironico non possono dare voti sotto il 7 probabilmente a questi giochi sì che non credo sia allora perché il gioco poi a guardarlo non sembra neanche brutto cioè è strano a me il personaggio mi fa sempre strano come si muove come animazione sì ma anche sono un sacco di altre cose che puzzano però non lo so ci si poteva sperare a vedere il trailer ecco quindi io non è perché non è un gioco mi interessa fatto di merda completamente eh però la camera è un po' sorta non lo è non è vero non voglio più vedergli il pene ragazzi vi avviso sono sazio comunque dicevo il gioco non che avessi aspettativo mi interessasse particolarmente anche prima il discorso è che se tu mi dici in una recensione che il gameplay non va bene è divertente il jetpack visto che in alcuni giochi giustamente fanno notare che hai dell'animazione addirittura per scavalcare dei muretti e quindi dici il jetpack è figo da usare va in giro esplori però mi dici che la trama è blanda le secondarie sono tutte noiose le funzionalità sono appena appena sufficienti cioè io lo sto giocando per quale motivo per andare in giro col jetpack non me ne frega niente abbiate pazienza soprattutto perché credo sia un gioco che costi abbastanza comunque sia non ti costa di certo 5 euro e 50 quindi boh non non va bene non va bene però magari a qualcuno può piacere non ho capito l'esempio di forse intendeva del fatto se ti diverti andare in giro per l'open world senza particolari scopi forse quello intendeva fammi rivedere ossia incentrato sulla libertà di movimento allora si ma la libertà di movimento di breath of the wild comunque in giro fai cose no ho capito però in Zelda quando tu vai in giro a vuoto ti capita di incontrare un sacrario una secondaria vado a uccidere dei mostri crafti delle situazioni questo qua da come ha detto lui le funzionalità sono tutte noiose vabbè anche su Zelda le funzionalità sono tutte noiose però in giro c'è quelle di Zelda le funzionalità non sono c'è il sacrario possono essere soggettivamente noiose però ci sono cose da fare le funzionalità non sono le cose da fare le funzionalità sono le funzionalità le cose da fare sono cosa trovi in giro no allora l'impostazione del gioco è proprio breath of the wild Marco qua dice che è incentrato sulla libertà di movimento fine non aggiunge altro di breath of the wild e breath of the wild c'erano cose da fare nella libertà di movimento ma non c'è scritto che non ci sono guarda nei contro c'è scritto alcuni sistemi sono appena funzionali le secondarie sono tutte ripetitive la trama è blanda dice che va in giro col jetpack ma non c'è roba interessante da fare dice che alcune attività addirittura frenano l'esperienza c'è tutto sbagliato voglio dire questi punti su zelda e va bene lo stesso almeno due di questi punti beh che la trama non è blanda però beh la trama ok però per il resto non è così comunque no l'esplorazione non sono le secondarie non sono le funzionalità ma comunque guarda che tutto quello che ti sto leggendo hanno detto che fa cagare non c'è questo hanno detto solo è figo da usare il jetpack quindi tu mi dici se me lo paragoni a breath of the wild ti dico no ok hai la libertà come breath of the wild ma in breath of the wild mi diverto il primo zelda è piaciuto tantissimo il primo breath of the wild non c'è una crociata contro zelda e che il secondo zelda fa cagare la gente in giro nel secondo zelda si divertiva nelle cose libere da fare poi vabbè lì è anche soggettivo uno si può anche non divertire però diciamo che tendenzialmente gli strumenti per divertirti ce li puoi avere ti costruisci qualcosa fai delle cose in giro qua mi stai dicendo che è tutto blando quindi vado in giro col jetpack cioè allora è simile a zelda quanto qualsiasi altro gioco libero no ma non capisco proprio la citazione a zelda perché potresti che è zelda il gioco il gioco è zelda proprio l'impostazione del gioco il gameplay il tutto è zelda tra l'altro dovrebbe essere il 2 di un che a me non mi sembrava molto però perché la grafica è diversa non ti ci arrivi ma in giro è zelda cioè vai in giro non ci saranno i sacrari perché zelda mi sembrava più un far cry no 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 è proprio ma io con tutte le robe che ho visto di outcast non avevo mai pensato a zelda eh ma vabbè ma perché la grafica essendo tutto diverso ma non per la grafica proprio per le cose che faceva cioè spara a dei signori che gli sparano a loro volta poi si nasconde dietro dei muri salta col jetpack a zelda non ci ho pensato tira fuori i scudi dalle braccia vedrai che nel prossimo zelda il jetpack te lo mettono e fai l'idea uguale beh in jetpack in realtà te lo puoi anche craftare nell'ultimo zelda un po' più grande però boh secondo me allora poteva paragonarla a qualsiasi altro gioco con un open world dove puoi fare cose cioè perché non probabilmente cioè semplicemente hanno voluto mettere un punto in più perché sennò la recensione veniva a fa cagare no ma anche due punti in più sì ma è praticamente è zelda ma l'hanno fatto con i piedi nel culo semplicemente anche perché comunque i primi due cioè gli unici due pro possono essere riassuti in uno perché è la stessa cosa perché girovagare per il pianeta e usare il jetpack è la stessa cosa ma perché allora per curiosità voglio andare a vedere quindi non ha la recensione di un altro sito così giusto tipo i veri ai ma basta vedere i veri ai non lo so eh no 6 e mezzo gli è andato i veri ai come si chiama Metacritic ma non citano zelda almeno outcast ha una media di 69 su 22 recensioni e il voto più alto è 80 non penso sia possibile 80 il voto più basso è 50 boh ma come fa a essere così discordante una re cioè passare da 80 a 50 sì ma è uno solo no sono 3 4 4 che gli hanno dato 80 1.78 1.77 1.75 e veri ai comunque dice sostanzialmente le stesse cose non lo paragona a zelda ma dice che è molto noioso e praticamente ti stufi di giocare prestissimo perché ti rendi conto che stai facendo sempre le stesse cose e sono tutte noie oltre non c'ha neanche quel po' di apial che ti fa tenere un attimo incollato anche esteticamente dico non so comunque passare da 80 a 50 vuol dire un gioco buono a un gioco sufficiente come fa a essere valutato così diversamente da 70 a 80 è un punto no da 80 a 50 e veri ai dice che alcuni tipi di attività ricordano avatar e mettono anche la recensione di avatar frontis of pandora si ho visto il video un po' l'estetica avatar ci sto perché dai video che ho visto io anche io potevo allora avatar mi sembra nettamente meglio dico la verità si no io l'ho giocato comunque meglio giocandolo mi ha stupito un po' in positivo cioè in avatar tu lo giochi non gridi a nessun miracolo però magari ti diverti comunque sei nel mondo di pandora voli non c'è la mobilità di eh no vabbè perché sai jetpack più che altro più che per la mobilità su avatar la colpa è del level design che non è quel tipo di cioè non è una colpa nel senso il tipo di level design è molto diverso da una cosa del genere questo qui quindi c'è anche il sistema di reliquie molto dicono che alla avatar i talan sono riorganizzati in villaggi e comunità perché poi sì vabbè c'è la classica cosa che deve andare magari in quella zona liberarla ti attaccano quindi vabbè sì in far cry non era troppo diverso sì avatar è far cry avatar però è più giusto perché effettivamente in avatar fai più cose ci sono più contrastanti ci sono pianeti con altri giochi declassandoli non nel gioco stesso ma in realtà più o meno perché chi l'ha paragonato a Zelda gli ha dato 7 quello che gli ha dato 8 non credo che l'abbia valutato senza paragonarlo a niente sono tutte le recensioni che sto leggendo io sono comunque ragazzi è noioso mettiamo mani avanti che è noioso ed è ripetitivo quindi se gli dai 80 mi devi giustificare bene se è tutto noioso sì ma poi soggettivamente ti può piacere però in una recensione mi immagino tu devi comunque andare a valutare dei parametri oggettivi per far capire al pubblico poi soggettivamente ci puoi giocare anche 100 ore guarda che bello questo articolo che si è su multiplayer Naruto Shippuden vabbè queste notizie ancora le mettono non è quella no stavo leggendo ad alta volta sì tra l'altro quella lì era quella con cioè Temari però ah sì è vero no c'è questa notizia che è molto bella GTA 6 c'è chi si è messo a contare i nei sul viso di Lucia pur di parlarne è vero mi fa ridere perché questa è una notizia per parlarne l'altro quindi è incredibile questa cosa dicono che PS Pro sarà il 45% più veloce di Playstation 5 sì ma che cazzo per un rumor però sì ma non vuol dire un cazzo non vuol dire nel ray tracing poi non in generale nel ray tracing che io poi non so neanche come fanno a calcolare queste velocità questa percentuale ciao salvo amici è uscito il trailer del corvo sì è uscito il trailer del corvo e hanno annunciato il periodo d'uscita di Black Mirror stagione 7 non me ne frega niente di Black Mirror da molti anni allora mentre del corvo come ho scritto ieri nel gruppo mi ricorda un video musicale di Lone Fawn che fa sempre questi video molto cinematografici che per detto a Lone Fawn è un gran complimento perché lo fai col budget di un video musicale detto al corvo non è un complimento ovviamente tra l'altro devo sentire la canzone che uscì da mezzanotte di Lone Fawn ricordate me lo ho messo non dico che sembra una merda no io non dico merda ho visto tanti dire che sembra una merda io più che merda mi puzza un po' ho visto che a Luke è piaciuto Luke mi pare fosse anche abbastanza fan del vecchio corvo a me non ha dato grandissime vibe ripeto mi sembra un video musicale di un qualche rapper però vediamo Gianluca speriamo no perde un po' il l'anno ormai l'ha registrato Gianluca doveva morire durante le riprese mannaggia no comunque boh non lo so a me non ha dato anche a livello estetico non mi piace per niente proprio questo questo zoomer con il mullet mezzo mullet cioè proprio no Cimax vediamo non lo so non lo so grazie anche Pepp prima grazie Cimax grazie Pepp non voglio neanche dire una merda no vediamo vedremo non lo so allora intanto sembrerebbe che Final Fantasy 7 Rebirth abbia venduto ma poi non mi sembra neanche gotico vabbè diciamo se non ci sono informazioni ancora effettive però ci sono cose discordanti beh comunque lo vedi no due settimane no due settimane sì lo vedi comunque come va un gioco dai primi giorni no due settimane diventi dai preordini però non sono usciti i dati cioè mancano completamente i dati degli Stati Uniti quindi vabbè è comunque un buon dato sì 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 anche se proprio non ci sono scritti quindi non lo so però sembrerebbe aver venduto poco ma rispetto ai loro canoni o cioè rispetto alle loro solite vendite o in generale non lo so se rispetto a cosa effettivamente poi vabbè è un esclusivo non è rispetto alle loro previsioni cioè mi sembra strano che un Final Fantasy venda poco in generale cioè sabrà poco magari per i loro no credo per gli analisi che avevano fatto loro cioè a confronto del primo presumo però appunto stavano analizzando nell'articolo il perché potrebbe essere e tipo appunto faceva notare che il primo ha venduto 7 milioni però era il primo capitolo il magari c'era più hype sul primo perché la gente non aveva ancora giocato a niente del genere su Final Fantasy non lo so no ma può essere tutto può essere non lo so cos'altro se si ha venduto più Unicorn Overlord in Giappone in Giappone si sta facendo vabbè che vendere più di Final Fantasy in Giappone vuol dire tanto esatto cioè dovrebbe essere anche Final Fantasy in Giappone lavare il culo è particolare le copie fisiche sì però è tra il 4 e il 10 marzo sì vabbè l'ha scansato adesso grazie Autovelox perché è più nuovo non è tanto dovrebbero aver terminato le riprese di Sonic 3 è sempre stato carino sia il primo che il secondo io non l'ho visti ancora però me ne ha parlato bene mia sorella era impazzita di aver facciato un bo Dungeons & Dragons Gameloft lavora un gioco per pc e console non che mi fidi troppo di Gameloft tra l'altro Balatro invece che lo facciamo questa sera l'autore parla della classificazione delle accuse di gioco d'azzardo che a quanto pare è stato messo Peggy16 credo per non mi ricordo come si chiamava perché non è gioco d'azzardo ma è tipo subconsciamente avvicinare al gioco d'azzardo una roba del genere anche se cioè non c'è un cazzo di gioco d'azzardo cioè pensarci boh non istigazione il gioco d'azzardo non è istigazione e far diventare appetibile un pochino il gioco d'azzardo ma gambling themes che non vuol dire un cazzo anche così però sì il fatto c'entra poco anche col poker in realtà dice che l'hanno rimosso dagli store proprio perché era equiparato al gioco d'azzardo secondo i vari store perché la gente vede poker e dice azz però l'autore ha detto che secondo lui appunto l'attuale classificazione è ingiustificata e dovrebbe essere una zona grigia del Peggy è più che altro perché in realtà non c'entra il gioco d'azzardo è una zona grigia poi in realtà dipende c'è il gioco d'azzardo come una versione mobile tra l'altro che gli azzardo chiedeva sei mutato gli azzardo sei mutato gli azzardo preferisco quei giochi lì preferisco su mobile ho comprato l'oletto ma ho comprato Paper Please ed è fighissimo su mobile a me sì sono giochi che su mobile vanno molto bene è un po' macchinoso Paper Please perché quando devi aprire tutte le varie cose è sempre un po' un casino i giochi che puoi giocare tipo solo col mouse io ho visto delle cose di barato ma proprio non mi dice non mi invoglia a giocarci è perché devi guardarlo un attimo di più cioè guardarlo così e basta la sfuggita no ho guardato proprio un po' un video di un ragazzo ma non mi prende cioè non credo sia per me ho proprio detto non è l'alluce questo raga è forse l'unico l'unico gioco paragonabile ad Isaac proprio come impostazioni come meccaniche contenuti cioè io vorrei poi un mazzo dei joker c'è un 150 jolly no non credo sia brutto da guardare semplicemente non credo sia per me da guardare non credo sia sono curioso di vederlo che non ho mai visto nulla stasera stasera si impazzisce ve lo dico stasera andiamo fuori di capoccia andiamo eh e poi cosa c'è non ho trovato grandi notifiche la verità vedi un po' se Luke dice qualcosa se l'arblade volete che Eevee sia mezza nuda il gioco diventerà più difficile non so cosa voglia dire ma non voglio sapere niente non lo so Star Wars Star Wars Cotter è ancora in sviluppo ma lo dicono ogni settimana no questo l'ha detto proprio Embracer cioè quello che lo sta producendo è ancora in sviluppo sarà un'attesa lunga uscirà nel 2030 probabilmente farò tra l'altro c'è dei Dragon's Dogma 2 è uscito un trailer narrato da Ian McShane che a proposito settimana prossima eh settimana prossima dovete decidere come fare perché ci sono tre day one in un giorno innanzitutto bisogna vedere se mi arriva bisogna vedere quando lo sbloccano è sempre quello il problema che anche oddio Rise of the Ronin e se no su Playstation lo sbloccano quindi in caso quello la mattina si può fare anche io la mattina vorrei fare possibilmente vorrei fare Dragon's Dog ma se lo sbloccano alla sera su Steam adesso vediamo infatti il prelude è dal 20 non so su Steam abbiamo fatto la storia a Instagram il gioco Nintendo qual è? che deve uscire? è Princess Peach però non so se mi arriva di solito non mi arriva mai giusto? è probabilmente uno di più importanti di quest'anno di Nintendo è che tutte e tre è tosta tutte e tre non li puoi fare o si farà live extra al pomeriggio no perché si farà per farli tutte e tre il day one non ha senso non sono neanche così importanti day one beh adesso vediamo innanzitutto se arriva perché non è quello sì vediamo perché appunto c'è notizie appunto del prelude di Dragon's Dogma 2 che parte dal 20 che si sblocca a mezzanotte però su Playstation no lo ancora è dopo su PC ancora non si sa niente Giallo comunque possiamo c'era qualche notizia di grazie al Nao grazie al Nao grazie mille eccoci c'è qualche notizia di cose aspetta che sto facendo la storia amor vediamo se ci sia scritto l'orario magari l'ha già annunciato se l'hanno annunciato stamattina ci ho guardato ieri su PC devi cercarlo ah tu e beh si tu su PC su console almeno sti casini non ci sono di solito non ci sono eccoci allora Luke mette Genshin Impact X Discovery Channel anche Keith Harrington è coinvolto nel documentario Keith Harrington è quello è Josno non è Josno ok Lily Cole Max vabbè c'è tutta una serie di gente del cast vabbè non importa cioè non importa la notizia ve l'ho detta poi a me non interessa particolarmente sono voluti 10 anni ma ora Dark Souls 2 può essere giocato a 120 fps e le armi si rompono il quadruplo più veloce adesso non lo so non ho n'idea non credo Unicorn Overlord va alla grande Sega raggiunge quasi il perfect score per gli utenti Sony eh ma sta facendo i culi ed è l'unico gioco che non ho chiesto pensa che è sfigato il 3% dei giocatori ha dato 4 stelle il 2% ha segnato 3 su 5 quindi praticamente quasi il totale ha dato sì 4 perfetto quasi abbiamo poi Dungeons & Dragons Gameloft è al lavoro sul survival per PC e console su un survival sì ah sì abbiamo poi quello è il problema io non so Gameloft adesso cosa stia facendo perché aveva fatto qualche altro gioco che avevo pure installato su PC se io cerco posso su Steam cercare Gameloft sì 8 giochi vediamo allora Dreamlight Valley Disney sì mi ricordo c'è lo Disney Speedstorm c'è gente che ci gioca c'è gente che ci gioca poi gli altri sì sono proprio giochi con tutti i giochi mobile ma Gameloft è quella di Asphalt era Gameloft secondo Wikipedia non produce giochi dal 2010 non penso proprio tra l'altro non penso proprio forse non li sviluppa sono un ordine a caso aspetta 2011 no 2011 no 2020 Asphalt Nitro Asphalt 9 Disney Magic Kingdom ha fatto un botto di giochi sì ma e Asphalt era il numero uno all'epoca sì di produttori per giochi per telefono game sì 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 quello sì però appunto erano altri tempi e altri giochi Disney Magic Kingdom una piccola notizia che era da Rassegna Stone che mi è uscita adesso la riporto praticamente a fermo un medico aveva dimesso una quindicenne dal pronto soccorso era stata ricoverata per una febbre e poi l'hanno visitata e l'hanno dimessa e lei è tornata a casa il medico poi credo rianalizzando tutto il suo caso è uscito dall'ospedale è andato a casa e ha detto ragazzi tornate in ospedale perché c'è qualcosa che non vale dobbiamo portare in neurologia gli ha salvato la vita cioè rileggendo probabilmente tutto il caso la cartella clinica si è reso conto che in realtà poteva essere qualcosa di più grave ed è andato lui in prima persona il chirurgo il medico a casa gli ha detto ragazzi riportatela in ospedale e lui ha detto ha fatto solo il suo lavoro giustamente ha detto tutti i medici fanno cose buone e troppo spesso fanno notizia solo quelli che commettono errori ha detto lui comunque interessante come notizia sì è stato molto bravo più che altro perché è stato ha avuto la cosa di dire ok c'è qualcosa che non va analizziamo bene va bene poi di Luke abbiamo incassi da record da record per Monopoly Go il gioco gratis supera i 2 miliardi di dollari che sono tantissimi che quello non l'abbiamo mai fatto no tra l'altro dice che ci sono 150 milioni di giocatori che hanno installato la Monopoly Go non è quello è quello di Ubisoft no? è quello che non salva le partite no Monopoly Go è quello ah no è quello esatto esiste un Monopoly Go di Pokemon ma che lo sapete non credo sia quello di Ubisoft è quello che sa che c'è solo su telefono è vero ma non ho neanche si stesse me lo sono perso è così bello scusami ma come lo giochi scusami magari non è come magari ti fa da gioco virtuale quando sei con gli amici la gente lo compra no è semplicemente un Monopoly normale lo giochi online lo giochi online perché non l'abbiamo mai fatto quello di perché non salvava aveva dei problemi perché non salvava le partite perché quello era bello quello di Ubisoft l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto? no quello di Ubisoft no non l'abbiamo mai era quello bello esteticamente no ne abbiamo fatto no 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 non l'abbiamo fatto quello di Ubisoft non l'abbiamo mai comprato perché c'era il problema che non salvava che non salvava le partite siccome sono lunghe però è perché esteticamente è molto bello abbiamo poi cos'è successo al circuito maestro no ragazzi roba di Formula 1 la svolta Mastercard per alcuni ha esito imminente io non so cosa sia dopo l'addio alla banda magnetica nelle carte di credit ma Mastercard non è circuito delle Formula 1 credo sia proprio il circuito io ho la carta maestro pensavo parlassi della Formula 1 perché ha detto circuito magari ha capito male la svolta Mastercard per alcuni ha esito imminente dopo l'addio alla banda magnetica nelle carte di credit arriva una grande trasformazione nei pagamenti con carta di debito poiché Mastercard eliminerà progressivamente il suo circuito maestro utilizzato in Italia negli ultimi trent'anni vabbè che tanto se succede qualcosa ti mandano l'avviso no probabilmente l'eliminerà nel senso quando scadranno ti mandranno perché anch'io c'ho Mastercard no sì semplicemente quando scadranno ti daranno la cosa nuova non credo che te le sottisca quando finiranno quando scadrà poi Black Mirror l'abbiamo detto ehm anche lì dicono ci sarà anche il sequel di un episodio mi stanno sulle palle queste cose non voglio i sequel degli episodi singoli è come What If non è più What If ormai come lo stanno facendo auguri prozio ciao bellissimo ciao papellone grande uomo ti do un bacio grande abbiamo poi Call of Duty no non credo Sony è entusiasta dell'accordo di dieci anni con Activision dice Jim Ryan ma ancora parla sto qui non lo sei andato eh non so andiamo poi avanti con Jurassic Park Scarlett Johansson in trattative per il nuovo film Jurassic City ok abbiamo poi eh sì la spesa per videogiochi e console continuerà a scendere negli USA 2024 anno tragico questi sono un po' di rumor e poi abbiamo l'Italia è la prima a far galeggiare i treni in Europa in questo modo l'impresa italiana Iron Lake non è quello di Genova no non c'entra niente perché quello è sotto terra quindi non è c'è sotto acqua l'impresa italiana Iron Lake ha condotto con successo un esperimento davvero notevole dimostrando per la prima volta un regalino da parte mia ma come sì 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 S.I.U. ma mille bit sei tu che fai gli anni mi regali a me i soldi grazie mille fantastico uomo e appunto hanno fatto questo test e hanno dimostrato per la prima volta che è possibile utilizzare la tecnologia della levitazione magnetica nota come maglev su binari ferroviari preesistenti e questa è la differenza sostanziale con gli esperimenti con gli altri esperimenti che c'erano stati tipo quello cinese o di altri aspetta sull'acqua quindi no allora no in realtà galleggiare intende nel senso che è sospeso esatto perché in realtà non c'è acqua si parla proprio di binari preesistenti che fanno grazie a una cosa magnetica su binari già preesistenti è ottimo il fatto che abbiano dimostrato che è possibile è già un passone è ottimo perché non devi stare a fare tutto no il fatto che fossero binari ferroviari preesistenti è proprio la dimostrazione che li distingue dalle altre prove perché gli altri non avevano fatto prove su binari preesistenti quindi con le ricerche scientifiche le scoperte gli italiani ce la fanno vedi che non siamo solo gesticolazioni e mandolini anche perché non ho mai visto un mandolino no l'ho visto un mandolino l'ho anche suonato in realtà mi sembra era un mandolino forse non era un mandolino quando ci portarono a provare degli strumenti però forse non era un mandolino ma comunque sto divagando finite le notizie di Luke possiamo passare alla seconda c'era aspetta che ho visto la notizia ah c'è Deber che si è stato già rinnovato per la quarta stagione nonostante fosse già stato rinnovato per la terza perché le faranno insieme perché le faranno le gireranno back to back quindi le gireranno insieme devo devo ancora farlo recuperare la fange tra l'altro se volete la moonlight di elder ring non la katana lo spadone è quella di ranni lo potete comprare a 500 dollari bestia 2 lire oracolo si arrivo oracolo il caro mino di poste italiane mi porterà il case del pc oggi o lunedì oggi o lunedì ma non posso darti una risposta oggi o lunedì ragazzi la tracciavità non funziona bene purtroppo l'oracolo ha risposta singola non ti dirà mai lunedì non te lo dirà mai il gioco è bello quando dura tanto ma ancora più bello quando dura poco e allora arriva oggi eh sì tra i due giorni diciamo che può essere interpretato così è gentile l'oracolo nonostante tutto regos andiamo con l'almanarco 44 avanti cristo caio giulio cesare tutto chiaro moro caio caio giulio cesare ok viene ucciso con 23 coltellate da un gruppo di congiurati repubblicani tra cui c'era suo figlio adottivo brutto nel 1493 cristoforo colombo fa ritorno in spagna e a conclusione del suo viaggio alla scoperta del nuovo mondo tutte date importanti cioè tutti eventi importanti 1923 corregio decreto legge 692 viene introdotto in italia il limite lavorativo di 8 ore giornaliere nel 1972 a new york invece si tiene la prima cinematografica del film il padrino tutta roba interessante davvero tutte cose grosse nel 1976 nasce la nuova testata per il giornale della seconda rete il tg2 per questo telegiornale si sceglie di raccontare le notizie aggiungendo commenti approfondimenti invece di limitarsi a leggere solo le notizie nel 1985 viene registrato il primo dominio internet della storia si tratta di symbolix.com che appartiene a un'azienda che produceva computer l'ultima notizia cioè l'ultima data è che nel 1986 l'azienda giapponese Fuji lancia sul mercato la prima macchina fotografica usa e getta la Utsurun Desu conosciuta anche come Quicksnap andiamo poi nati oggi nel 1943 abbiamo David Cronenberg che è il regista appunto della Mosca 81 anni fa se è vero auguro assolutamente poi abbiamo nel 1968 Sabrina Salerno famosa cantante anche showgirl 56 anni fa poi abbiamo nel 1972 Mark Hoppus bassista e la voce dei Blink 52 anni fa sta meglio adesso Mark Hoppus mi sembra dopo la malattia mi pare che sarà ripreso abbastanza comunque gli auguro il meglio nonostante le canzoni non mi piacciono nel 1975 Eva Longoria famosa attrice più che altro per Desperate Housewives 49 anni fa e poi abbiamo nel 1975 sempre della stessa stanza di Eva Longoria Will I Am rapper dei Black Eyed Peas vabbè adesso è anche da solo si è guarito sono contento andiamo poi al proverbio del 15 marzo che quando viaggi su una strada fangosa non fermarti a pulire i sandali disse Gandhi tra l'altro non c'è la spiegazione però la possiamo interpretare con se ti fermi è peggio perché se sei su una strada fangosa e ti fermi a pulire i sandali tanto li risporcheresti poco più avanti quindi è una perdita di tempo abbiamo poi le giornate nazionali e non Honen Matsuri giornata per invocare la fertilità per le coppie un anno di buoni raccolti per i contadini per farlo si esaltano le forme falliche non è quella giapponese credo di sì giornata internazionale contro gli abusi di potere della polizia attenzione giornata internazionale per combattere l'islamofobia che credo sia abbastanza palese che cos'è giornata internazionale del mangiare un animale per la peta per dar fastidio ai membri della peta che esagerano che esagerano e per sottolineare l'ipocrisia del fatto che i rifugi gestiti della peta ricorrono l'eutanasia molto più degli altri intrinseco casino questa giornata internazionale poi abbiamo la giornata mondiale del dormire oggi siamo assolutamente giustificati vado a farmi la cotoletta non c'entra niente Uberto c'entra però dai avanti e poi abbiamo la giornata nazionale degli amanti delle noccioline io sono un grande amante delle noccioline infatti allo zoo mi potete trovare tranquillamente basta passiamo alla rassegna buba avocca 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 un remix grazie steppo andiamo avanti con la rassegna buba appunto prima notizia io non so cosa vuol dire io ve la leggo mi spiegate voi grazie a chi grazie a tutti rinnovate amici mi raccomando rinnovate perché noi dobbiamo pagare le bollette è un casino andiamo avanti comunque dicevo no sto dicendo che c'è un ragno però non ci voglio di tirare l'uso scutagli da lì ma è piccolino sarei già uscito dalla stanza e per sicurezza avrei buttato benzina in giro attenzione alla coda di 4 km tra cerveteri e torri in pietra per veicolo in fiamme grazie grazie mille grazie mille grazie mille che step questo step ci ho preso abbiamo appunto ripeto io vi leggo non so cosa significa però mi ha fatto ridere ve lo voglio leggere Kendall Jenner in versione preppy poco make up e look che cosa vuol dire preppy che è truccata appena ma non lo so cioè a nature quasi nature cosa è preppy ragazzi io non so cosa questi termini della moda io non capisco preppy allora a giudicare da cosa dice dopo dice poco make up e look casual immagino sia tipo quasi net natural no? ma vorrei darti una mano eh no immagino che tu non sappia nella sega quanto me vabbè noi prendiamo pulito va bene quindi quasi quasi nude no nude look è un'altra cosa quasi nature potevano non potevano assolutamente dire clean devono dire preppy preppy perché poi chi legge di moda saprà un po' come se ti dico Isekai magari uno non lo capisce però nel gergo si usa vabbè comunque William ed Harry erano allo stesso evento per Lady Di ma non insieme neanche virtualmente quindi non è cioè era un evento simile ma erano in due parti diverse della Gran Bretagna l'oraculo no ah era Grogu ok no delicatissimo la cosa e si era subito metto sulle cose cioè era già pronto sì sì ma poi non è quello infatti sono andato a guardare il termoraculo perché non è quello c'entra un cazzo dobbiamo mettere quelle moto di Grogu eh ci stavamo pensando adesso vediamo comunque appunto erano allo stesso evento per la mamma ma non erano insieme in nessun modo quindi vabbè non ho capito perché ha fatto notizia facciamo la stessa con un piccolo Grogu dentro che gira ma è un casino come lo fai chi la fa come lo fai Grogu verrà bellissimo perché gira velocissimo allora poi abbiamo una notizia la testa di Grogu che gira no verrà bello così magari c'è già uno Yoda o un Grogu che gira nelle moto non lo so abbiamo Mel B che per chi non la conoscesse non se la ricordasse era una delle Spice Girl è stata rovinata dal divorzio dice che è tornata è tornata dalla madre cioè non ha talmente una lira che è tornata dalla madre e fa la spesa al discount sì ha perso tutto per il divorzio praticamente però a quanto pare l'ex Spice aveva accusato di violenza l'ex marito però forse ha perso non lo so com'è andata la situazione non voglio dire scemenze quindi mi fermo qui poi andiamo avanti con Blair Rodriguez che come sapete sta vivendo questo momento di con chi sta non sta con nessuno sta con gente a caso chi lo sa e TG.com ci fa ci riassume questa sua nuova vita facendoci notare che si è fatta un piercing all'ombelico e ha un nuovo tatuaggio va bene TG.com e poi andiamo con i momenti a marcord che sono anche uno è anche un compleanno perché appunto è auguri Sabrina Salerno come dicevamo prima ecco la bellezza sulla neve del 91 e poi abbiamo l'altro momento a marcord che è Giuseppe Giacobazzi e le differenze tra i sessi a Zelig del 2008 immagino che bello sketch di solito erano proprio belli questi sketch uomo-donna di Zelig e di Colorado Giacobazzi è uno dei pochi romagnoli che non mi faceva tanto ridere dico la verità perché di solito i romagnoli mi facevano ridere i comici lui non mi ha mai fatto troppo impazzire magari mi sbaglio cioè aveva qualche cosina ogni tanto un po' qualche uscita divertente però ecco mi sembrava un uomo simpatico quello si egregio messere termoracolo qual è l'illeggibile destino che si prospetta dinanzi al mio vitale percorso l'ambivalenza nebbia mi celerà dagli occhi dal nemico vabbè ha detto un paio di cazzate tossisco dal sedere infatti dice il termoracolo eh sussidiario bene credo spero tu abbia avuto la tua risposta e intanto passiamo al guest the game la lebra cos'è la lebra tipo ah che belle parole no non era niente dove si va dove si balla qua la lente vedrai in modo che la lente è molto facile da usare questo è molto facile chi è questa merda basta solo pensarci un po' questo è silent till si si adesso vedo silent till questo mi guarda con la lente questo qui è un mare silent till palesemente ma a me sembra un gioco visto dall'alto comunque anche a me sembra un gioco visto dall'alto non lo so visto dalla nebbia no è terreno e lì in alto a destra c'è del mare no c'è della nebbia come no c'è spuglio dove la nebbia scusa non è nebbia questa acqua bianca no è un terreno visto dall'alto zoomatissimo si semplicemente vicino alla costa è più scuro e di là è più più secco non credo sia un terreno lo vedo anch'io e anche la costa che a me sembrava del fumo quello sopra no è semplicemente l'effetto sabbia un po' più chiaro ma no la schiuma del mare è quella sopra ragazzi cosa c'entra quella in alto a destra io dico dota 2 dai potrebbe essere sì tra i due anch'io avrei detto dota piuttosto perché è più scuro non lo è un'altra parte di terreno desertica c'è un quadratone rosso come se stessi oddio qua sembrava quasi un gioco alla worms messo così no però è dall'alto ma proprio dall'alto a volo d'uccello sì è un po' Fire Emblem anche me lo ricordo sì sì sono d'accordo con Tiwaz per i quadratoni non so quale oh Fire Emblem il primo che mi il metto il primo che mi dà allora è giusto Fire Emblem non so quale sì sì palesemente metti engage metti engage metti engage devo giocarlo l'avevo iniziato in live poi non sono andato avanti sì comunque giusto devo andare avanti perché poi in quel periodo lì avevo un sacco di altri giochi da fare l'ho fatto solo in live poi basta lo devo riprendere in mano che questo secondo me mi piace un po' è l'ultimo no engage perché aveva avuto recensioni buone ma non buone come l'altro vai a vedere mi ricordo bene mi ricordo che c'era stata cioè a differenza dell'altro erano tenuti molto più bassi io uno dei problemi che avevo notato in live erano le cazzine un pochino cringe non so se vi ricordate c'era quel filmato iniziale che non si capiva niente era tutto strano imbarazzante però no in realtà come recensioni sì sono abbastanza alte ha comunque una media di otto e mezzo però mi ricordo che rispetto all'altro capitolo erano andati un po' più soft con le recensioni eh i pg esatto tiva sono d'accordo me ne ero accorto addirittura dalla prima ora però i voti cavolo addirittura averia gli diede a nove cioè comunque è piaciuto però mi ricordo che anch'io dei personaggi avevo detto ma che pg sono che reazioni hanno anche il protagonista che era poco mi sembrava poco interessante e poi c'era questa estetica che gli ha messo solo due colori per renderlo particolare dei capelli ma non sembrava particolarmente lo giocherò comunque lo giocherò perché sono giochi che mi piacciono di solito clip termole zitti come dice dottor house un po' di figa qua no non è dottor house perché sono stupido perché sono stupido eh ragazzi for the embrace or the shit ah poi non so se c'è Vector in chat se vuole venire per Eurotrack volentieri prima facciamo prima apriamo le carte adesso sì adesso spocchettiamo anche il Gamedle anche in realtà è prestissimo sì tanto oggi non ci abbiamo veramente fretta di una sega per fare quello che ci fa tantissime Gamedle c'è il Gamedle dei personaggi che sta venendo sviluppato Grand Theft Audo 5 per partire più vecchio del 2013 stavolta probabilmente sarà un single player siamo un Uncharted 1 un Uncharted 2 1 1 metti l'1 e qual è Uncharted 1? Drake's Fortune è più vecchio del 2007 solo single player terza persona bestia beh però mettendo mettendo Uncharted effettivamente ti ha dato tanti indizi Star Wars Battlefront quello vecchio è un Mass Effect il primo Mass Effect no era 2009 Star Wars Battlefront vecchio non era in prima comunque no era tutte e due vero era la prima e la terza Elder Scrolls no no beh no non credo parte che era in prima Elder Scrolls poi c'era un Tomb Raider Tomb Raider per Play 3 cos'è uscito il primissimo Tomb Raider Remake però non era 2007 no il primo Tomb Raider Remake era 2010 forse per PS4 terza persona potrebbe essere un Silent Hill no era per Silent Hill per PS3 boh non so perché ho pensato ai giochi vecchi in terza che PS3 è la generazione che conosco di meno ma che poi PS3 2007 vuol dire che era appena uscita la PS3 2006 deve essere non 2007 oppure Metal Gear 4 Metal Gear 4 però è uscito anche su PS4 io l'ho giocato su PS3 no occhio che potrebbe essere anche che sia uno dei due quindi può essere anche solo PS4 no se è più vecchio del eh no se è più vecchio del 2007 non può essere ah no nel senso può essere solo PS3 senza PS4 sì anche God of War Resident Evil potrebbero essere tranquillamente Metal Gear non so quando è uscito c'era il 4 ma forse non era appena uscita la Killzone era in terza no no in prima Killzone è in prima ed è comunque non è la Sniper Elite pure Sniper Elite è in terza persona in realtà però non so in realtà noi stavo stavo dicendo si c'è effettivamente Shooter c'è Platform Adventure può essere anche solo Adventure o solo o solo Shooter può essere sì allora no tra l'altro è Action e può essere God of War il 3 è uscito su Play 3 è un God of War beh God of War ci sta è il 3 quello per Play 3 vedi può essere proviamo no era 2010 però vabbè la saga è sbagliata questo è il primo bit slash e Advent quindi direi andrei più su Advent che Shooter sì sì un action adventure forse anche fantasy forse se vi metterei uno non era per la Play 3 ma Oddworld non è Action Adventure no no Adventure sì non è in terza persona è più platform Oddworld forse viene considerato non è in terza persona no beh quello perché scorri in me cioè non è un action adventure Oddworld Oddworld secondo me è un platform ragazzi Devil May Cry 4 è in terza adesso secondo me è più nuovo però i vecchi non erano in terza persona Devil May Cry no vedi era 2008 però è Capcom e beh allora Resident Evil scusami Resident Evil eh ma Resident Evil 5 2009 eh non è il 5 sarà qualcosa 4 non era per Play 2 no Moro ma va no 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 4 era per Play 3 aspetta che cosa hai messo tu eh Devil May Cry 4 eh io per sbaglio ho messo il 2 eh ed è ancora più vecchio del 2003 come fa a essere ah perché ci sarà sarà riuscito su Playstation 3 eh ora sarà Resident Evil 1 Remake primo Resident Evil cioè Resident Evil Resident Evil però c'è nuovo e originale è originale magari la scusa perché sulla Play 3 c'era la retrocompatibilità mettiamo mettiamo l'originale Resident Evil proprio l'originale no qualcuno quello per la per la Play 2 è più vecchio di cosa 2003 però non so cosa vuol cioè perché sulla Playstation 3 la prima c'era quella retrocompatibilità non lo so eh beh mettiamo un Resident Evil vediamo intanto se la saga è giusta metto il 2 a caso eh saga corretta vabbè sarà è più recente del 98 quindi sarà il 3 o di mezzo eh sì allora sarà il 3 no 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 per caso ho messo il 3 del 2020 ok eh però non c'è scusa il 3 3 è Nemesis Nemesis è quello originale è Nemesis eh allora sì può essere sì 99 adesso Resident Evil io non è che sono così preparato ma è piaciuto Don Kiro grazie Don Kiro ciao grazie mille purtroppo il comando carta oggi non c'è comunque sì mi raccomando se volete sempre acquistare le carte sì tanto lo sapete tanto lo sapete come è che si chiama Forgecraft questo questo non è un negozio questo ci ha proprio mandato in oro un grande un grande che si chiama come si chiamano non mi ricordo un grande ma non mi ricordo quelle le carte di Star Wars ma che cosa perché non c'è scritto ma scusa non c'è scritto strano non c'è scritto ma come non c'è scritto fa vedere a me Star Wars Star la fantasy flight sì ma non ci hanno mandate loro chi le fa sì ma chi le distribuì allora non lo so quello chi le fa le trovi aspetta che mi hanno salvato le storie che hanno fatto gli altri asmodi asmodi ah ok ok beh spacchettiamolo beh ora sì intanto oh zio sì 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 sì